Mentre Socrate è seduto in piazza, un uomo gli si avvicina in preda visibile eccitazione. Buongiorno Socrate, sai cosa ha appena saputo? No, risponde il saggio, come potete? Ma Socrate lo interrompe. Aspetta un momento, prima di cominciare puoi dirmi se hai fatto passare ciò che vuoi riferirmi attraverso i tre setacci. I tre setacci? Chiede l'altro stupito. Ma non so di cosa stai parlando. Il primo setaccio è quello della bontà, quello che vuoi raccontarmi è una cosa buona? Ebbene, non ci avevo pensato. Aspetta, no, non credo che si possa dire che si tratta di una cosa buona. Allora, se non è una cosa buona, l'hai almeno fatta passare per il secondo setaccio, quello della verità. Quello che vuoi dirmi è vero? Devo confessare che non ne sono sicuro, risponde l'altro sempre più imbarazzato. L'ho saputo da un amico che l'ha sentito dire anche lui da. Quindi non sai se è vero? No, per dirla sinceramente non ne so nulla. Socrate allora continua. Se quello che vuoi dirmi non è una cosa buona, né sicuramente vera, almeno passa attraverso il terzo setaccio. È utile che io venga a saperla? Insomma, non credo che sia davvero utile, risponde l'altro a disagio. Allora ascolta, se quello che vuoi dirmi non è una cosa buona, né vera, né utile, preferisco non ascoltarla e ti consiglio di dimenticarla. Grazie. 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 Grazie.